del secondo tempo, meno di tre minuti e poi vedremo quanto sarà il recupero. Jan Mat, si allarga subito Berghaus, pericolosissimo, poco fa con un bel sinistro, il cross di Berghaus, Ake, colpo di testa, arriva il pareggio dell'Olanda, assegnato Ake. Bruttissima palla messa in mezzo dall'Olanda, bruttissima ovviamente per la nostra difesa, palla che gira, taglia fuori la difesa che è molto statica in questa occasione, e Ake riesce a trovare lo spazio e il tempo per metterla alle spalle di Perin. Buona la giocata di Berghaus, Ake scatta in posizione assolutamente regolare, festeggia così il suo primo gol con la nazionale olandese, alla settima presenza, reazioni dalla panchina azzurra, Alessandro Antinelli. Beh, è arrabbiato Mancini perché quel pallone in mezzo non doveva partire, o non con quella facilità. È stato lasciato sì troppo spazio a Berghaus che ha avuto la possibilità di calibrare il cross con il suo...